mentre sto registrando questa lezione photoshop è giunto alla versione numero 24.4.1 e se anche voi avete aggiornato il vostro photoshop a questa release sappiate che sono state introdotte delle novità davvero importanti soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo fotografico e nello specifico all'interno del modulo di camera raw novità che sono coadiuvate da quella che ormai è una tecnologia sempre più diffusa ossia la cosiddetta intelligenza artificiale che per certi versi a qualcuno di voi magari farà paura ma in realtà è semplicemente un vero e proprio ausilio alle attività che voi svolgete con photoshop tutti i giorni e che vi permette davvero di realizzare qualcosa di estremamente più efficace e in maniera più efficiente rispetto al passato vediamo innanzitutto quindi quali sono queste novità davvero molto rilevanti e per cominciare apriamo questa immagine che state vedendo in questo istante che è semplicemente una foto di rifatto di famiglia bene innanzitutto sto per aprire che cosa un'immagine in formato raw e nello specifico quello che adesso vi vado a mostrare è legato proprio all'utilizzo di questo formato quindi ahimè diciamo o almeno per il momento non potremo utilizzare le funzioni che adesso vi mostro su immagini che non siano in formato raw quindi non per esempio utilizzando camera raw come filtro apriamo quindi questa immagine e vediamo che cosa possiamo fare in prima battuta bene innanzitutto andiamo a fare diciamo un ingrandimento su un particolare come può essere questo e introduciamo una nuova funzionalità di camera raw che è legata alla riduzione del disturbo abbiamo sempre diciamo utilizzato la riduzione del disturbo in maniera manuale piccola premessa ma velocissima anche se lo do per scontato che cos'è il disturbo il disturbo è quella che state vedendo in questo momento questa sensazione di grana che è legata magari a uno scatto realizzato in basse condizioni di luminosità ed è quello che una volta avveniva quando si utilizzavano pellicole ad alta sensibilità o con un iso elevato per cui si utilizzavano pellicole con dei grani d'argento diciamo di grosse dimensioni in grado di catturare maggiormente la luce però il rispetto negativo e il prezzo che si doveva pagare era proprio questa granulosità della pellicola stessa cosa che avviene anche con le macchine fotografiche digitali tanto più noi utilizziamo un iso elevato quindi una sensibilità del nostro sensore maggiore tanto più questo effetto di granulosità sarà evidente bene abbiamo sempre utilizzato all'interno di camera comunque la funzione di riduzione di disturbo basato su luminanza e sui colori in maniera tale da cercare di mitigare appunto questo effetto ora abbiamo però a disposizione qualche cosa di un pochino più potente come vedete alla voce riduzione disturbo presente anche un pulsante che si chiama allo stesso modo che non fa altro che però richiamare una funzione di riduzione del disturbo basata proprio sull'intelligenza artificiale o machine learning chiamiamola come vogliamo facciamoci un semplice click e vediamo come funziona in realtà diciamo il funzionamento è quanto di più banale possibile perché perché ci pensa questa tecnologia ad analizzare innanzitutto l'immagine e le caratteristiche che questa ha in particolare anche i soggetti da cui è composta e poi attuerà proprio una mitigazione dell'effetto di disturbo tale per cui come possiamo vedere abbiamo un'immagine che precedentemente era in queste condizioni e all'applicazione quindi di questa tecnologia avremo quindi un'immagine praticamente quasi esente da questo effetto di disturbo che originariamente essa aveva notate che all'interno di questo riquadro che noi possiamo utilizzare per individuare un particolare della mia immagine potete anche andare direttamente per esempio sull'immagine stessa e con un click andare quindi già subito identificare un'area che volete campionare per permettervi di esaminare quindi l'intensità e l'effetto che questa funzione ha sulla vostra fotografia e nel momento in cui io premo all'interno di questo riquadro lo dice lo stesso photoshop possiamo vedere con o senza il miglioramento che stiamo applicando è veramente notevole soprattutto nell'ottica in cui consideriamo che questo effetto come vedete non impatta sostanzialmente sul disegno dei particolari del mio soggetto persino addirittura riconoscendo dei filamenti così così piccoli dettagliati come sono per esempio i capelli per cui questi non diventano sfocati a seguito dell'azione di questo di questo strumento è veramente notevolissimo per cui potete osservare come appunto l'effetto sia effettivamente molto efficace le possibilità di interazione sono ridotte veramente all'osso perché si può semplicemente scegliere l'intensità e il fattore di applicazione di questo filtro proprio a seconda delle nostre gusti e delle nostre preferenze quindi possiamo per esempio lasciare un valore 50 e vedete che comunque l'azione è veramente molto molto efficace e molto potente cliccando quindi su migliora applichiamo quindi tranquillamente il nostro filtro bene diamo anche come si so dire una botta di automatico e diamo diciamo a questa immagine un fattore diciamo di luminosità un po migliore rispetto a come era precedentemente ok questo diciamo è già una prima importantissima novità che farà felici davvero molti fotografi ma ce ne sono altre che riguardano invece le funzioni di mascheratura e anche qui l'intelligenza artificiale ci aiuta perché perché ci permette adesso con gli ultimi aggiornamenti quindi di photoshop e di camera raw di andare istantaneamente a mascherare dei particolari sensibili diciamo del dei nostri soggetti in maniera pressoché automatica senza che noi dobbiamo farlo manualmente e riusciamo quindi a individuare questi particolari che sono spesso da parte nostro oggetto di intervento e necessitano di essere naturalmente magari perfezionati in che maniera per esempio osservate andiamo a prendere quindi lo strumento di mascheratura e potete osservare che ma questo già diciamo da un certo tempo camera raw in grado di farlo cioè riconosce all'interno di questo scatto la presenza di persone quindi non soltanto di un singolo soggetto ma di più persone che fanno parte di questo scatto avremo quindi una persona 1 persona 2 persona 3 e persona 4 quindi io letteralmente posso andare per esempio a selezionare in questo caso mia figlia agata facendoci un semplice click e dicendo di ok voglio agire su questo soggetto e vedete che è automaticamente viene evidenziato ovviamente la mascheratura che viene realizzata che subito mi identifica quindi il mio soggetto su cui posso andare quindi a intervenire e a lavorare ma non solo questo possiamo anche unitamente diciamo alla selezione della persona di questa persona di questo soggetto andare a individuare ulteriori particolari su cui andare a intervenire per esempio posso scegliere di lavorare soltanto sulla pelle del viso sul l'incarnato del corpo sulle sopracciglia sulla sclera dell'occhio facciamo così ingrandiamo che così ci divertiamo anche un po vedere cosa sta facendo questo strumento veramente notevole quindi l'iride e la pupilla per esempio le labbra i denti i capelli o l'abbigliamento addirittura cioè riconosce i vestiti quindi del mio soggetto e questo mi permette quindi istantaneamente di fare degli interventi subito mirati su questi particolari non solo vedete che in questo momento io ho attivato e selezionato persona 1 che in questo caso è agata ma posso scegliere di aggiungere un ulteriore soggetto presente all'interno di questo scatto e vado per esempio a selezionare anche mia moglie lena perché voglio intervenire su entrambi questi soggetti ma anche qui su entrambi questi soggetti ma non sulla loro interezza quindi non sulla persona intera ma magari voglio lavorare sulla sclera dell'occhio e magari anche sul colore e sulla tinta dei denti ed è quello che effettivamente vado a fare oddio fa un po impressione perché vedete che così posso evidenziare o meno diciamo questi interventi però rende diciamo molto bene l'idea di quello che adesso mi accingo a fare abbiamo detto quindi denti e sclera dell'occhio e diciamo che quindi adesso premendo il pulsante crea vado a creare effettivamente le singole maschere di tutti questi particolari questo cosa significa significa che se adesso le maschere sono tutte attive ma posso anche eventualmente disabilitarle singolarmente per magari andare a fare ulteriormente interventi più nel dettaglio nello specifico in questo caso una cosa che vado a fare non solo diciamo di nascondere per esempio nascondiamo i punti di mascheratura e nascondiamo anche il rosso coprente perché voglio vedere semplicemente l'azione che adesso vado a fare in questo caso vi ricordate ho selezionato quindi e mascherato denti e sclera dell'occhio quindi molto probabilmente voglio aumentare un po l'esposizione e magari abbassare un po la saturazione ed ecco che quindi molto velocemente ho semplicemente quindi schiarito e sbiancato quindi i denti e anche la sclera delle pupille per rendere quindi sguardo e sorriso diciamo decisamente migliorati rispetto a come erano prima questa è la situazione che avevamo prima e questa è la situazione che abbiamo dopo questo strumento è veramente potente perché naturalmente spesso e volentieri immaginate i servizi dei matrimoni un strumento di questo genere veramente permettetemi la battuta ci si va veramente a nozze quindi anche per esempio tornando nuovamente al medesimo strumento creiamo una nuova maschera ancora basata sulla selezione della persona e mettiamo che per esempio ad agata voglia intervenire semplicemente sui capelli bene vado ancora a selezionare agata sceglierò in questo caso i capelli guardate con quale efficacia quindi avviene e viene realizzata una mascheratura legata ai capelli e magari aumentiamo l'esposizione per farla diventare diciamo un biondo un po più vivace come se fosse appena tornata dal mare bene avete visto come sotto questo punto di vista veramente gli strumenti di mascheratura automatica legata in questo caso l'intelligenza artificiale che riesce a riconoscere la presenza dei soggetti ea riconoscere di questi soggetti anche dei particolari che li caratterizzano sia possibile molto facilmente la parte nostra andare quindi intervenire in maniera super selettiva e soprattutto con una grandissima velocità ed efficienza